Amici di Youtube buongiorno, oggi è il 22 di novembre, salvadore! Questo è dove abbiamo lasciato poco fa la macchina, ancora sono le... Ah c'è l'altimetro, 4,70, sono comunque le 7 e un quarto. Poco fa ho incontrato Fabrizio Cardillo qua in questa sughereta e trovando i primi pochi porcini avevamo deciso di spostarci quindi avevo trovato qualche bocciolotto di nascita, ancora il 22 di novembre, favolosi ma guardate qua, guardate qua, macchina, guardate che mostro, al 22 di novembre, guardate che mostro guardate che aereo, signore, aereo sicoli al 22 di novembre, uno spettacolo, uno spettacolo mamma mia, mamma mia, ragazzi al 22 di novembre, che meraviglia, che meraviglia, guardate dove è la macchina cioè ci credete, ci potete credere, in mezzo a queste pietrae, una cosa sconvolgente, favolosa che sensazione, che sensazione vabbò, allora, il 22 di novembre dalla Sicilia, zona mare, nel Messinese, Nebrodi guardate che meraviglia ancora ci regalano i boschi ok, amici, se non ci rivediamo dopo, perché il troppo passatempo, magari poi ci risentiamo dopo una buona giornata a tutti e buoni funghi a tutti a presto, ciao ciao